Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Granny, ma oggi siamo qua con un video teoria che riguarda Granny 4, quello originale! Come sarà mai la mappa? Cosa troveremo all'interno di questo nuovo capitolo? Prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivete al canale con la campanella attiva, ringrazio Benedetto Dieghi per aver fatto l'adorazione al canale, ti ringrazio per il grande supporto, ma adesso diri di partire, cominciamo! Allora, per questo video devo fare pure delle premesse, perché in realtà noi non sappiamo se ci sarà Granny 4 oppure no, cioè developer potrebbe rilasciarlo domani, come potrebbe rilasciarlo fra dieci anni, o potrebbe non uscire direttamente, o peggio ancora potrebbe arrivare quando ormai io sono diventato un nonno, quindi in quel caso, sendo che io diventerò un nonno, developer potrebbe aggiungermi tranquillamente come villain all'interno del gioco. Ma va bene, allora, per questo video direi di farlo in pratese, semplicemente perché dobbiamo fare delle teorie, quindi non possiamo avere in mezzo né Granny e né Grampa. Si va in partita e si comincia, vai! E andiamo qua, torniamo dopo tanto tempo nella casa di Granny 3, ma neanche dopo tanto tempo, perché se ci pensiamo pochi giorni fa, qualche settimana fa, vi ho portato, diciamo, una versione aggiornata da un fan di Granny 3, dove è stata aggiunta la fuga con il carro armato. E tenetevi pronti perché molto presto vi mostrerò anche un'altra vedi fuga, ma non posso fare troppi spoiler. Ok, e si parte qua all'interno della casa della nonnina, una casa veramente molto particolare. C'è da dire una cosa, che su Granny 1 e Granny 2, bene o male, developer ha mantenuto uno stile uguale, identico di case. Invece qua su Granny 3, proprio lo stile della casa è diverso, proprio sia le texture, sia i muri, ma anche proprio la forma, il modo come è fatto. Infatti, alcuni hanno un po' criticato questa scelta di developer. Per me in realtà è stata una scelta tranquilla, cioè né brutta né cattiva. Anzi, in questo modo diciamo che abbiamo avuto una casa diversa rispetto al solito. Ed è proprio da qui che voglio partire per quanto riguarda la teoria della mappa di Granny 4. Che ripeto, non sappiamo se ci sarà, potrebbe esserci come potrebbe non esserci. Granny 4 potrebbe essere ambientato o in un'altra casa, diciamo un po' simile a quella di Granny 3, in modo da mantenere tipo una sorta di continuità. Quindi Granny 1 e Granny 2 hanno una casa simile. Granny 3 e Granny 4 potrebbero avere una casa simile, quindi con uno stile un po' così, sempre in questo modo. Con queste texture e con questa forma qua, che ricorda proprio quelle case abbandonate che stanno nel nord Europa. Vabbè, anche in Italia ce ne sono alcune in questo modo, però molto spesso in nord Europa e anche in America. Ecco, developer potrebbe ispirarsi da questo stile, una casa di questo modo. E chi lo sa, lo scopriremo presto. Vi chiedo soltanto scuse se sottofondo sentite tipo cinguettare degli uccelli, che qui vicino c'è degli uccelli che stanno cinguettando, proprio qua davanti al balcone. Vabbè, vogliono farmi compagnia mentre registro qua il video di Granny 4. Quindi, allora, Granny 4 potrebbe essere ambientato in una casa simile, ma io avevo fatto qualche anno fa una teoria riguardo proprio una mappa completamente diversa, perché noi Granny l'abbiamo sempre visto dentro le case, ma non è escluso che magari lei possa possedere un castello. E diciamo che la conferma possiamo averla indirettamente da Zlendrina X. Infatti Zlendrina, come potete ben vedere, i primi capitoli erano ambientati in un posto, poi ci siamo ritrovati all'interno della casa, poi ci siamo ritrovati dentro le cantine, e infine ci siamo ritrovati in un castello. Quindi Granny 4 potrebbe essere ambientato tipo all'interno di un castello. Abbiamo visto un po' di tempo fa il fangame Granny 5 che è dentro un hotel, però quello lì è un fangame. Non è diciamo canonico all'interno della storia, ma devo dire che è fatto bene. Anche se devo fare una piccola critica. A 12 ha fatto sto fangame veramente troppo lungo, e non ha neanche messo dei checkpoint. Quindi una volta che uno perde durante sto fangame, deve rifare tutto da capo, ed è veramente lunghissimo. Quindi, vabbè, sicuramente Developer non farà una roba del genere, nel senso se farà un gioco sempre con le classiche 5 notti, farà comunque qualcosa che si possa completare in tempi ragionemoli, no? Spero. Vabbè, nel frattempo ho trovato qua la chiave della cassaforte, sono curioso di vedere cosa c'è qua. Apriamo. Ah, ok, vabbè, la ruota... Non della fortuna, cosa stavo dicendo. La ruota del ponte, via! Ce ne scappiamo via! A proposito, voglio pure parlare delle possibili vie di fughe che potrebbero esserci su Granny 4. Allora, su Granny 1, come vie di fuga, abbiamo quella tramite la porta principale, o quella con l'automobile. Su Granny 2, invece, abbiamo quella con la porta principale, quella con la barca nelle fognature, e infine la fuga in elicottero. E qui su Granny 3, invece, abbiamo la fuga tramite il ponte, qui davanti, e quindi sempre la porta principale, la classica via di fuga che c'è in quasi tutti i giochi, e poi la fuga con il treno. Anche se, con la versione aggiornata dal fan, abbiamo anche la fuga sia con il labirinto, e sia con il carro armato. Vabbè, comunque, nel gioco quello canonico, abbiamo soltanto, vabbè, fuga qui dal cancello e fuga con il treno. Quindi su Granny 4 potrebbero esserci altre vie di fuga. Sicuramente ci sarà una fuga con la porta principale, perché tanto l'abbiamo visto in tutti i capitoli. Cioè, tanto alla fine lo scopo dei giochi di Granny è sempre quello, dover scappare via da una nonnina, da un nonnino veramente molto incattiviti. Quindi sicuramente ci sarà una fuga tramite la porta principale. Ah, mi sono dimenticato di dire un'altra cosa. Su Granny 1 abbiamo pure la fuga tramite le fognature e il labirinto di Angeline. Mi ero dimenticato di citarlo. Vabbè, comunque, tornando qua, su Granny 4, quindi, sicuramente scapperemo via dalla porta, dal cancello, da un ingresso principale, ma potrebbe esserci anche una fuga epica, con un mezzo di trasporto. E quale mezzo potrebbe essere? Cerchiamo di analizzare un po' la situazione, no? Perché, allora, qui su Granny 3 abbiamo la fuga con questo, con il treno, tramite la metropolitana. Ma cosa ci fa una stazione della metropolitana qui nella casa di Granny? Ma perché, mamma mia, mi ha fatto prendere un colpo! Ma, oh! Ti giuro, mi sono spaventato. Forse è meglio andarsene via. Ma no, no, aspetta, perché devo andare via? Tanto sto coso fa soltanto rumore e basta. Solo perché non ho il biglietto. Vattene via, tanto il biglietto non te lo pago. Costa troppo. I biglietti del treno ultimamente sono aumentati un sacco, quindi figuriamoci se vado a pagare un biglietto del treno a Granny. Ma, ma figuriamoci! Comunque, allora, tornando al discorso di prima, io qua ogni volta mi dilungo a parlare di varie cose e poi non arrivo mai alla conclusione, no? Su Granny 1 abbiamo la fuga epica tramite l'automobile, in mezzo di trasporto. Su Granny 2 i mezzi di trasporto sono la barca della fognatura e l'elicottero. Su Granny 3 invece come mezzo di trasporto abbiamo qua il treno metropolitano, come lo volete chiamare voi, no? Quindi su Granny 4 sicuramente ci sarà un'altra via di fuga, un'altra fuga epica. E magari la nonnina potrebbe avere un altro mezzo di trasporto. Non so, adesso provo a citarne alcuni, sono soltanto esempi teorici. Ad esempio la fuga con l'aeroplano. E questo sarebbe bellissimo. Rubare l'aeroplano a Granny e scapparcene via. Ah, vabbè, sarebbe bello. Un'idea veramente molto interessante. Ma non esclusa anche la possibilità che la nonna possa avere una nave. Quindi magari ci ritroviamo con una casa vicino ad una spiaggia e forse dovremmo scappare da questa spiaggia con questa nave, con questa barca bella grande, magari uno yacht, un peschereccio. Anche questo potrebbe essere una possibile via di fuga. Altri mesi di trasporto non me ne vengono in mente. Non penso che ci possa essere l'automobile perché comunque la nonna... Cioè l'automobile l'abbiamo vista qui su Granny 3. L'hanno completamente sfasciata. L'hanno distrutta. Ma perché? Ma non esclusa anche comunque la possibilità che forse Grampa potrebbe avere anche un altro mezzo di trasporto sempre a ruote. Fuga con il furgone. Questa è un'altra fuga teorica. Invece la fuga più... Più divertente secondo me sarebbe tipo fuga in bicicletta. Dobbiamo riparare la bicicletta e scapparcene via. Quella sarebbe, diciamo, una fuga un po' così. Va bene, non credo che ci sarà fuga in bicicletta. Però, sicuramente con qualche mezzo di trasporto. Fatemi sapere in questo video i commenti quale, diciamo, mezzo vorreste vedere in una fuga epica. Non so, aeroplano, barca, peschereccio, furgone, o altre ancora. Adesso non me ne vengono in mente altre. Sono curioso di sapere le vostre opinioni, le vostre teorie. Così che dire, per il momento direi che posso vedere quel video. Fatemi sapere in questo video i commenti quattro. Pensate, fatemi sapere se vorreste vedere prima o poi un vero Granny 4 perché, ovviamente, siamo qua da anni ad aspettare. Ancora non è uscito nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, però, quando spolliciate, come si vedete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi genitori al prossimo video, come sempre, vi auguro buone giornate, buone serate, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti. Ciao a tutti.